I campioni regionali, crescendo nel loro percorso artistico, proseguono le competizioni, privilegiando la specialità di danza e standard. Tra i loro risultati, il più prestigioso è quello di finalisti campionati italiani. Scegliono quindi di passare all'attività professionistica come competitori e tecnici, ottenendo l'abilitazione come giudici della Federazione Italiana Danza Sportiva. Sono maestri diplomati MIDAS, maestri italiani in danza sportiva, la loro sede è a Uboldo e la loro scuola si chiama Gio Dance. Ecco a voi, Michael e Denise! Per voi, il pazzo è lento! Grazie, che va a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.